Un pallone, no? E' un'altra cosa! Troppo arretrata però per il 7 Che se la sposta sul destro per calciare forte! Mariani! Le spinta corta ma ci ria arrivendo ai tempi Eccoli il cross! Scavalcato Bastesin! E poi c'è il tocco sotto porta Credo di Allocca! Che anticipa anche Cali Ci era uscito malissimo Bastesin Credo che il gol sia di Vitushinsky allora Non di Allocca, di Vitushinsky Placidi va forte in porta! All'angolino! Come Calini ci va da più lontano La CRC raddoppia e affonda la montagnola Al 35esimo e 2 a 0 Cross forte Mariani a vuoto! E Coppa in spaccata Fa 2 a 1 Proprio come nel primo tempo Il primo intervento di Mariani Non fu perfetto andò a vuoto Colpo di testa all'indietro Calinic se l'è presa sgusciando Andrusiak se la sistema Per andare in porta Vuole accelerare Prendersi più spazio! Traversa che ancora trema! Ho avuto porno che si facesse male Calciando così forte Senza colpire il pallone Poi fa anche freddo Nastasi trattenuto Trattenuto Calinic Attenzione perché Nastasi è già monito Doppio giallo Rosso per Nastasi Destro forte di Mariani Per Calinic che deve tenere l'imbalzo Orecchioni Calinic Contatto fallo Di Calinic Giallo anche per Calinic Ed è rosso 10 contro 10 Espulso anche Jure Calinic Andrusiak la mette all'indietro Ma sbaglia una assist Allora Traversone Da Cruz la gira Arriva Gabrielli La mette dentro Loretucci Salva tutto Ma non c'è più tempo È finita la CRC Batte la Montagnola 2 a 1 Non è detto ancora nulla Il titolo non è nostro Oggi era importante vincere Ce la giochiamo adesso col Maccabi Speriamo bene Insomma Ecco